Dopo l'arrivo del secondo figlio del principe Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten Windsor, il 4 giugno, si dice che la coppia stia cercando di mantenere la pace con gli altri membri dello studio. Meghan Markle e il principe Harry non hanno rimpianti per le loro interviste, ha affermato una fonte. Si dice che il duca e la duchessa del Sussex stiano cercando di mantenere la pace con altri membri della famiglia reale dopo la nascita del loro secondo figlio. Nonostante i rapporti contrastanti sulla nomina di Lilibet Diana Mountbatten Windsor e se alla regina sia stata data la possibilità di approvarlo, l'arrivo della bambina di sangue blu sembra aver costretto lo studio a mettere da parte le loro controversie per il momento. Il periodo di calma segue un momento difficile per i reali, in cui Harry ha affermato che i genitori di suo padre gli hanno trasmesso dolore e sofferenza. Una fonte ha dichiarato a US Magazine. Non è un segreto che nell'ultimo anno Harry e Meghan siano stati in guerra con i reali. Non tutto è perdonato, ma dopo tutto il contraccolpo riguardo alle loro interviste di cui, tra l'altro, la coppia non ha rimpianti stanno facendo del loro meglio per mantenere un buon rapporto con la regina per mantenere la pace. Si dice che la regina abbia messo da parte il dramma per ora ed è felicissima di essere di nuovo una bisnonna. Harry e Meghan hanno dato il benvenuto al mondo il loro secondo figlio il 4 giugno e l'hanno chiamata Lilibet Diana in omaggio alla sua bisnonna e defunta nonna, la principessa Diana. Secondo quanto riferito, hanno videochiamato la regina non appena sono tornati a casa dall'ospedale per presentarle il nuovo arrivato. Erano molto eccitati e non vedevano l'ora di condividere l'arrivo della loro figlia, ha detto una fonte a People. Fonti hanno affermato che la regina e il principe Carlo sono stati in contatto regolare con Harry sin dalla nascita. Charles ha parlato spesso con suo figlio più giovane e la loro relazione ha girato una svolta in seguito alla serie di affermazioni scioccanti che Harry ha fatto in interviste controverse all'inizio. inizio di quest'anno.